Paleo-soucers, antichi dischi volanti, sono gli avvistamenti dell'America settecentesca e ottocentesca, in altre parole, prima della scoperta del fenomeno ufo da parte di Kenneth Arnold. Ne troviamo traccia, se guardiamo con occhio attento, nella letteratura ottocentesca americana, che è quella composta da punti di viaggio, di romanzieri che erano anche esploratori molto spesso, fedeli cronisti del folklore locale. Lì troviamo tanti spunti ufologici, un esempio è Il mistero di Sleepy Hollow di Washington Irving, che è vissuto fra il 1783 e il 1859, è un romanzo breve, per la verità, del 1819, da cui il regista Tim Burton è natato persino un film, solo che il film è completamente diverso dal racconto, perché il racconto in buona sostanza è una battaglia amorosa fra due contendenti per una donna, uno dei due fa lo scherzo all'altro e lo mette in fuga, quindi niente cavaliere senza testa, è tornato dall'oltredoma, come vediamo nel film di Tim Burton. Ora, il vero titolo del racconto è La leggenda della valle addormentata, questo sarebbe Sleepy Hollow, ed è ambientato nella colonia olandese di Terry Town, che è realmente esistente, è stata fondata nel Westchester, nello stato di New York. Irving, che per inciso era un appassionato di storia della stregoneria, fu seduto dalle leggende spiritiche che giravano in quell'area, e così ci ha tramandato testualmente le sue parole. Un'aria sognante e intorpidita sembra avvolgere questo luogo, impregnando nell'atmosfera. Alcuni dicono che il posto sia stato stregato da una specie di medico mago ai primi tempi dell'insediamento, altri che un vecchio capo indiano, stregone della sua tribù, vi celebrasse i suoi riti, prima che il paese venisse scoperto dal capitano Hendrik Hudson. Certo è che il luogo sembra davvero preda di un incantesimo, che strega la mente dei suoi onesti abitanti, i quali se ne vanno in giro come trassognati. Qui tutti sembrano ben disposti verso ogni sorta di eccentrica credenza, vanno soggetti a estasi e visioni, vedono spesso cose strane e sentono nell'aria musiche e voci. E poi ancora, dice Irving, queste altre storielle di magia, di terribili presagi, di visioni prodigiose, di rumori misteriosi, di terrorizzanti comete e stelle cadenti, storie così diffuse nel Connecticut dei primi tempi, ecco, tutte queste storie potrebbero avere un fondamento reale, perché uno scienziato che si chiama Michael Persinger, autore di diversi testi peraltro scettici, sul fenomeno UFO sostiene di aver identificato in Canada una località dove per colpa di campi magnetici naturali le persone avrebbero continue allucinazioni a base di UFO e ci ondolerebbero con aria addormentata, proprio come succedeva a Sleepy Hollow. Fermo restando che c'è chi invece associa queste manifestazioni a fenomeni ufologici. In Toscana qualche anno fa ci fu un caso di gente che si addormentava improvvisamente, ma se la vallata di Erwin potrebbe trovare una spiegazione convenzionale, più difficile è capire cosa fosse il fantomatico Gran Carbonchio, che gli dà il titolo a uno dei romanzi brevi di Nathaniel Hawthorne, che è vissuto dal 1804 al 1864, e tra l'altro è l'autore della ben più famosa Lettera Scarlatta, altro grande appassionato di stregoneria, non a caso era nato a Salem, la cittadina americana, teatro dell'ultima caccia alle streghe della storia. Secondo Hawthorne, il Carbonchio in questione era un oggetto azzurro a forma di diamante, questo è un ufo a forma di diamante, sono stati descritti così, e questo oggetto volava nel cielo e veniva venerato dagli indiani come una divinità. Solo gli stregoni potevano avvicinarsi senza temere, perché gli sconsiderati chiusavano a contravvenire al divieto, accorciando la distanza di sicurezza, tipo quasi l'arca dell'Alleanza della Bibbia, restavano temporaneamente quanto improvvisamente paralizzati da una energia invisibile, né più né meno come accaduto in tempi moderni ai protagonisti di incontri troppo ravvicinati con un disco volante. Devo dire che tra l'altro conosco una vicenda che mi è stata riferita da una ricercatrice americana che ha lavorato con gli indiani su Lakota e questi le hanno raccontato che, di aver visto spesso extraterrestri in forma umana, tra l'altro questi su Lakota dicono essi stessi di provenire dalle pleie, ed ebbene in un'occasione un disco volante sarebbe atterrato in uno dei loro villaggi, ne uscì un essere in tuta perfettamente umano, quello che viene chiamato un nordico. Poco dopo arrivava una macchina della polizia, sapete, con le sirene a manetta, tutti i lampeggianti, eccetera, a pochi metri dal disco, blackout completo, le luci si sono spente, la sirena si è spenta, il motore si è arrestato, i polizioti sono rimasti così bloccati a bocca aperta finché l'uomo dello spazio è risalito sul disco volante, è ripartito e in quel momento la macchina ha ripreso a funzionare. Ecco, questo è molto curioso e interessante perché sembra né più né meno che in chiave moderna la leggenda del Gran Carbonio, chi si avvicinava a questo diamante volante restava paralizzato, ebbene, esattamente quello che è successo in questo villaggio di Siu Lakota. Ebbene, forse già Irving nel mistero di Sli Pionov raccontava delle cose che hanno anticipato certe tematiche della moderna ufologia.